Siamo abitanti di Karakosh. Siamo sfollati dal 6 agosto. Già dal 1 agosto la situazione era peggiorata. Avevamo capito che ci sarebbe stata una tragedia. Siamo arrivati al 15 agosto del 2014 per fare una valutazione della situazione e abbiamo assunto subito il senso della gravità dei problemi. Durante questi giorni era circolata la voce in tutta la città che l'arrivo dell'Isis era imminente. La situazione è diventata molto caotica. Tutti hanno iniziato a raccogliere quello che avevano e a prepararsi alla fuga. L'attacco di Mosul è seguito all'attacco di tutta la zona di Ninewa, della valle di Ninewa. Il 3 e il 4 agosto abbiamo iniziato a sentire le cannonate che arrivavano intorno alla nostra zona. Durante questi bombardamenti un bambino e una coppia di fidanzati che si stavano preparando al matrimonio sono morti. Quindi la gente ha iniziato a scappare. Per strada c'era un caos totale. Gente che andava e veniva. Molti scappavano anche a piedi pur di riuscire a raggiungere Erbil o un posto più sicuro. La città di Erbil è stata riempita di profughi. Noi siamo arrivati in quel periodo in cui ogni giardino era pieno di tende. Tutte le scuole erano state occupate da questi profughi arrivati di corsa, di notte. La situazione nelle chiese dormivano i suoi lati sui banchi delle chiese. La situazione era veramente angosciante. La notte del 6 agosto io e la mia famiglia siamo usciti da Karakosche, quasi a mani nude. Siamo riusciti a portare con noi solo quello che si poteva portare a mano. Quindi abbiamo lasciato là quasi tutto. Abbiamo camminato per 12 ore, di notte. Ogni tanto riuscivamo a trovare un passaggio su qualche macchina per qualche minuto. La Foxiv ha considerato la gravità e ha deciso di avviare un progetto. A questa decisione ha seguito l'affiancamento del quotidiano avvenire, il quotidiano dei Vescovi. Siamo tornati a settembre con la presenza anche di un giornalista, il quale ha cominciato a documentare la situazione che era a suo punto gravissima. La nostra realtà qui è sostenuta soltanto dall'Italia, soltanto dalla buona volontà dei cittadini italiani e dà un bel contributo che la conferenza episcopale ha concesso alla Foxiv. I curti si sono trovati soprattutto delle donne e degli uomini che hanno voglia di vivere. Purtroppo questa loro voglia di vivere è stata frustrata ed è stata purtroppo messa a dura prova e viene messa a dura prova da tutto quello che sta succedendo e di cui noi abbiamo tristemente notizia. Per fortuna c'è questa possibilità, questo impegno da parte di tutti di riuscire ad arginare questa difficoltà. Certo non possiamo considerare questa una soluzione definitiva. Dobbiamo tutti quanti lavorare, soprattutto coloro i quali hanno delle responsabilità devono mettercela tutta per poter dare a queste persone una speranza che vada oltre i campi, una speranza che vada oltre queste realtà per poter permettere alle famiglie, ai ragazzi, ai bambini che abbiamo visto adesso di progettare i loro futuri in maniera più dignitosa, in maniera umanamente dignitosa. Grazie a Dio siamo riusciti ad arrivare a Dancawa. Qui a Derbilla almeno siamo al sicuro. Sì. Siamo nel campo Ancawa II che è l'ultimo nato, è un campo direi di extralusso rispetto a quegli altri. Contiene mille containers che a loro volta contengono 1200 famiglie pari a 5-6 mila persone. Il lavoro è cominciato, è andato avanti e abbiamo continuato così ad espandere una nostra presenza. La Foxit fa diverse attività, dallo sport alla protezione dei bambini, all'educazione, ai centri di formazione anche per gli adulti. Dove ci troviamo attualmente è un asilo nido per i bambini nati nel 2010, quindi hanno solo 5 anni come preparazione per il prossimo anno che comincia la scuola elementare. Questa scuola è chiamata Centro di Speranza. Contiene due classi, ogni classe 30 bambini con due maestre per ciascuna classe e fanno due turni, quindi il totale dei bambini sono 120 bambini con 8 maestre. Poi altre attività sono sport, palla, volo, palla canestra, calcio, taekwondo. Siamo riusciti a costruire questa pista in cemento di pallavuola e pallacanestro dove il trainer, l'allenatore, fa giocare i ragazzi per certe ore e le ragazze per altre ore e altre giornate. Le ragazze sono le persone che sono le più condizionate anche da una cultura che qui è molto forte ancora, che fa sì che la famiglia tenga molto stretta la sicurezza delle ragazze, naturalmente adottando il sistema primordiale di chiudendole in casa o in certi casi forzandole ad un matrimonio in età giovanile, 15-16 anni. L'attività di arte marziale è soprattutto un'attività che rende il bambino cosciente dell'ordine delle cose. Deve per esempio fare un inchino, in ogni condizione che si vede intorno qui i ragazzi vedendosi non si salutano ma si manipolano, c'è un aumento dell'aggressività. Questo campo diciamo che diventa un campo di 5 stelle rispetto ad una qualità purtroppo di accampamenti che ci sono intorno. Io sono una kurda musulmana di Shingal. Prima che arrivasse l'ISIS eravamo sereni, vivevamo tutti come una famiglia, sciiti, kurdi, sunniti, non c'erano differenze tra noi. Il 6 agosto 2014 avevamo appena finito di pranzare, quando improvvisamente è arrivato l'ISIS. Mio marito aveva una concessionaria di automobili, avevamo una grande showroom, avevamo tante macchine, belle macchine, ma non siamo riusciti a prenderne nemmeno una, perché la nostra zona era una zona sciita. Quando è arrivato l'ISIS hanno iniziato a decapitare la gente della nostra zona, quindi abbiamo dovuto scappare immediatamente. Non siamo riusciti a prendere nemmeno un'auto, siamo venuti in taxi. L'ISIS ha preso quattro dei miei fratelli, alcuni con le mogli, e li hanno rinchiusi in una moschea. Poi improvvisamente è arrivato un missile sulla moschea. Ci sono stati morti e feriti, ma loro per fortuna si sono salvati. È un anno e mezzo che mi chiedo da dove è arrivato quel missile. Tutti qui stanno ancora aspettando che Mosul venga liberata. Se toccano Mosul con una guerra o con un attacco, i due milioni di persone che vivono in Mosul diventeranno, per la metà almeno si considera, diventeranno sfollati anche loro. E allora sarà un altro problema grave da risolvere in più. Come farà la comunità mondiale a risolvere questo problema? Non si sa, la misericordia di Dio è ancora quella che noi speriamo che funzioni. Io ho sempre pensato che la provvidenza è quella che ci ha permesso di aprire questo nostro asilo e continua a sostenerci. Grazie a tutti.